lotta al covid conferita la benemerenza al dottor nudi sigillo d'ateneo alla storia industriale di alceste vitri no alle biodigestore di barchi in 500 manifestano fan il gruppo era guiderà il sostegno a pesaro capitale della cultura il consorzio pesaro basket si arricchisce di un nuovo sponsor buona serata tutti voi gentile pubblico di rossini tv e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di giovedì 21 luglio apriamo occupandoci di due riconoscimenti che le città di pesaro e urbino hanno tributato fra questa mattina e ieri sera a due uomini diversamente importanti per il territorio provinciale cominciamo da pesaro dove dopo settimane di dibattito politico anche piuttosto acceso è stato conferito oggi il riconoscimento per elevati meriti al dottor umberto gnudi ex primario del pronto soccorso premia premiato assieme alla sua equipe medica per il suo grande impegno nella lotta al covid il servizio è stata conferita questa mattina la benemerenza per elevati meriti al dottor umberto gnudi e alla sua equipe sanitaria l'ex direttore facente funzioni del pronto soccorso di marche nord è stata una delle figure manifesto della lotta al covid 19 nella provincia di pesaro urbino il manifesto di un lavoro massacrante sulla prima linea della pandemia al cospetto di episodi drammatici e senza precedenti il manifesto anche di una campagna pro vaccino deragliata in polemiche di richiamo nazionali infine il nodo di una battaglia sanitaria e politica con il congedo più o meno forzato da marche nord tanti sentimenti ma quello della gratitudine diventa il prevalente nel giorno della benemerenza gratitudine perché è un ringraziamento della città al lavoro che abbiamo fatto e quindi sono sono lieto di questo e sono lieto di essere qui assieme ai miei colleghi che lo meritano almeno altrettanto e quindi è una cosa bella in comune al fianco di gnudi parte di quella squadra del pronto soccorso il dottor giovanni polidoro infermieri marco spinaci lucia zini e marianna lucchina le os tiziana marte e cristina casacu rispetto ai quel periodo di fine febbraio inizio marzo praticamente i ricordi sono anche piuttosto confusi perché si fa fatica a dividere le giornate se mi ricordo quello di un unico giorno eterno senza soluzione di continuità ricordo gli episodi ricordo le persone i volti delle persone dei pazienti di quelli che non ce l'hanno fatta tante cose tante cose è una cosa che non non dimenticheremo ed è una cosa noi abbiamo visto abbiamo visto delle cose che è difficile anche raccontare difficile far credere a chi non le ha viste come sia andata veramente gratitudine e rabbia i sentimenti in conflitto per matteo ricci che più di tutti ha promosso questo riconoscimento se non avessimo avuto questi medici così dediti alla causa e competenti avremmo probabilmente avuto ancora più morti e ancora più più dolore quindi grazie 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 e dall'altra un po di rabbia perché perdiamo l'ennesimo medico di valore che decide di andare a lavorare altrove e vediamo che i problemi del pronto soccorso invece di migliorare aumentano continua a mancare il personale e si continua anche a far finta che va tutto bene questa è la cosa che un po più mi dispiace addirittura non si difende neanche l'azienda ospedaliera per la quale ci siamo battuti tanto Gnudi è di fatto in ferie da inizio aprile periodo in cui arrivò la discussa separazione da Marche Nord ciascuno fa le proprie scelte io sono stato nominato direttore per una scelta dei vertici di Marche Nord direttore facente funzione per una scelta dei vertici di Marche Nord ho cercato di fare il mio lavoro meglio che ho potuto successivamente sono state fatte altre scelte e io prendo atto di queste scelte non posso criticare non è il mio lavoro io sono a un livello diverso e tante cose non le conosco non le vedo quindi i motivi per queste scelte magari a me possono essere oscuri ma sicuramente ci sono l'ultimo anno è stato anche di lotta a un doppio stress quello usurante di un pronto soccorso ridotto sempre più allo stremo delle forze d'organico ma pure quello di una inattesa sovraesposizione mediatica ho cercato anche di smussare di ridurre questa esposizione cercato di commentare il meno possibile e adesso sono qui solo appunto per per la benemerenza ecco però cercato di tirarmi un po fuori da questo da questo giro insomma proprio perché lo ritengo eccessivo in realtà io non credo di avere né fatto né detto cose particolari ho fatto il mio lavoro come detto ho cercato di farlo di farlo al meglio e assieme a delle persone meravigliose che ci hanno permesso di ottenere un risultato incredibile perché se se mi avessero detto un mese prima se mi fossero detto guarda succederà questa cosa qui fammi un pronostico ce la potete fare io ho detto no non ce la possiamo fare è una roba troppo grossa troppo grossa per noi invece ce l'abbiamo fatta di questo sono sono orgoglioso e come vi avevamo anticipato un altro premio di altro genere è stato conferito ieri sera a urbino dove e precisamente a palazzo ducale dove è stato premiato con il prestigioso sigillo d'ateneo dell'università l'industriale al ceste vitri ascoltiamolo proprio intervistato da antonio astuti al ceste vitri è insignito del sigillo dall'università di urbino questo nome alle nostre spalle pesa un pochino credo di no perché è un grandissimo onore per lei riconoscere questo riconoscimento ormai dopo 55 56 anni di proprio in proprio poi altri 12 13 anni prima che ho lavorato prima ormai non mi fa più paura niente un po di emozione c'è perché non sono abituato di fronte agli obiettivi perciò sono più l'uomo di fabbrica però mi fa piacere vedere questo questi avvenimenti anche perché questo riconoscimento l'è dovuto per il lavoro che ha fatto per l'apporto che ha portato al territorio per questa straordinaria volontà di essere utile alle persone quindi non è un caso che oggi l'università di urbino le riconosce tutto questo sicuramente io ringrazio tanto l'ateneo qui di urbino che dato questa opportunità sicuramente ho lavorato tanto ho fatto tante cose tante belle cose però questo è una cosa emozionante perché vivendo sempre tra i progetti tra la fabbrica tra cercare di arrivare gli obiettivi questo bel bel riconoscimento che non me l'aspettavo è stata una bella sorpresa sicuramente è merito anche sì mio però anche di tutta la mia squadra questo sigillo che nel passato abbiamo dato a valte scavolini alessandra baronciani a selci e rupoli quest'anno lo diamo appunto a vitri sono ovviamente questa una scelta che non fa l'ateneo da solo lo facciamo insieme con una commissione di confindustria che aiuta ad individuare un imprenditore che per la sua storia diciamo ha segnato positivamente la realtà economica del territorio quindi e noi siamo molto contenti di dare questo riconoscimento insomma c'è una lista lunghissima di personaggi anche internazionali che l'hanno ricevuto e quindi ci fa molto piacere quando riusciamo a darlo anche a qualcuno che è del nostro territorio e l'intervista dal ceste vitri che avete appena visto è stato solo uno dei vari argomenti trattati dalla conviviale di confindustria pesa urbino che si è tenuta ieri sera a palazzo ducale e che potrete approfondire attraverso uno speciale dedicato che rossini tv trasmetterà proprio domani venerdì 22 luglio alle 21 e 20 ed un altro grande uomo invece se n'è andato nella notte politica pesarese in lutto infatti per la scomparsa all'età di 75 anni di marcello secchiaroli che fra il 1985 e il 1995 fu assessore comunale ai servizi sociali a pesaro prima di diventare anche assessore regionale sindacalista e sportivo soprattutto legato al basket secchiaroli è stato uomo di grande sensibilità e impegno sociale con particolare attenzione riposta verso le categorie più fragili un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri impegnando i vigili del fuoco fino alle due di notte in contrada san filippo territorio collocato tra i comuni di fano terre roveresche e san costanzo il rogo per cause da accertare si è sviluppato in un terreno agricolo estendendosi lungo il dislivello di una collina proprio in piena crisi idrica i pompieri sono anche stati costretti a prelevare acqua dagli invasi della zona per sedare le fiamme utilizzando anche un elicottero della protezione civile regionale non si segnalano persone coinvolte nell'incendio e a pesero invece i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale fra un camion e un'automobile avvenuto nell'autostrada a 14 poco più a nord del casello pesarese il sinistro non ha registrato feriti gravi ma le operazioni di messa in sicurezza hanno imposto la chiusura del tratto autostradale per mezz'ora con conseguente riapertura a due corsie ed ora ci spostiamo a fano dove oltre 500 fra cittadini e amministratori provenienti dai comuni di terre roveresche mondavio e fratterosa hanno manifestato ieri sera contro il progetto di realizzazione del paventato impianto biodigestore a barchi è stata un'invasione pacifica e democratica di oltre 500 persone quella che nel centro di fano è stata mossa mercoledì sera dai territori di terre roveresche mondavio e fratterosa manifestanti uniti in un secco no al progetto di realizzazione di un biodigestore nel territorio di barchi progettato dalla ditta feronia con il benestare di aset e acea un corteo di cittadini e amministratori che dal pincio ha mosso fino a 20 settembre esternando i motivi del dissenso a difesa del territorio siamo qua per portare a conoscenza del comune di fano ma anche di tutta la provincia il nostro malessere che abbiamo nei confronti dell'impianto presentato da feronia nel comune di terre roveresche e soprattutto oggi siamo qui a dire al sindaco massimo seri a tutti i consiglieri di fano che prima di decidere sul territorio che non è il loro vogliamo essere interpellati almeno se la volontà è quella di trovare una collaborazione o un accordo e siamo tanti e soprattutto molto ma molto arrabbiati siamo qua oggi per manifestare in maniera decisa democratica quelle che sono le nostre ragioni contro questa scellerata procedura messa in campo dal comune di fano una procedura di una scorrettezza istituzionale unica che chiaramente vede colloquiare questo comune che insieme alla propria società doveva realizzare questo impianto già da tempo sul proprio territorio invece inserirsi in una procedura in un altro comune senza un filo logico senza neanche aver colloquiato con altri con tutti gli altri comuni soci eccetera non aver parlato con il comune di terre roveresche quindi calpestando quelli che sono i nostri diritti anche perché chiaramente questo è un rammarico perché tanti amministratori tanti politici non conoscono neanche bene quello che il progetto che è stato autorizzato dalla provincia di Pesaro Urbino e quindi andare a parlare di qualcosa che uno non conosce che ha tante criticità per il quale noi faremo ricorso al tar perché chiaramente non siamo d'accordo assolutamente neanche su tutto il procedimento così incardinato in provincia e come si è svolto. Siamo qua con un valore aggiunto, siamo cacciatori in quanto tali siamo profondi conoscitori del territorio e amiamo l'ambiente e sappiamo benissimo che una simile decisione fatta in un sito agricolo può risultare dannosa e una ferita per il territorio. Noi come socialisti sosteniamo questa manifestazione, la condividiamo e soprattutto ringraziamo il comitato di averla fatta a Fano perché il valore di essersi ritrovati qua aiuta questa città e soprattutto la maggioranza di questa città che è stata in qualche modo messa in crisi da una volontà straordinariamente difficile da cogliere fatta da una parte del Partito Democratico, da una parte del centro-destra che ha messo il sindaco nel Consiglio Comunale in minoranza perché riteniamo che Ferronia e Acea sia il gruppo privato che non deve assolutamente entrare con le mani in tasca dei cittadini. Chiediamo un asset pubblico insieme a Marche Multiservizi e la riapertura di un tavolo provinciale perché la tutela di questo territorio passa attraverso l'arricchimento di queste realtà produttive e la difesa dei lavoratori e di tutta la realtà della nostra vallata. Ed ora passiamo allo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210. Le concitate immagini del video girato da uno scooter che ci è stato inviato da un nostro telespettatore mostrano il sospetto avvistamento di alcuni lupi in via Barsanti, zona muraglia di Pesaro. Avvistamenti sempre più frequenti soprattutto in questa zona residenziale ai piedi dell'ardizio dove la fauna selvatica sconfina in cerca di cibo. Un tema delicato in cui la tutela dell'animale va in conflitto con il rischio di incolumità per persone e per animali domestici. Un'altra segnalazione è quella che vi abbiamo mostrato due giorni fa e che anche grazie alle nostre sollecitazioni è stata risolta. Parliamo infatti del guasto alla condotta idrica registratosi in zona Tombaccio di Pesaro all'angolo fra via Cesena e via Verucchio con i video inviati alla nostra redazione da un residente della zona lo scorso martedì. Una segnalazione alla tv che era stata preceduta sabato a quella Marche Multiservizi che ha ispezionato il guasto ma come ci è stato fatto notare dopo quattro giorni la perdita d'acqua quanto mai gravosa in questo periodo di crisi idrica continuava a persistere. Ieri invece anche grazie alla nostra segnalazione agli organi competenti la perdita giudicata piuttosto complessa è stata riparata. E cambiamo argomento questa mattina è stata presentata la stagione teatrale di prosa 2022-2023 che Amat porterà al teatro sperimentale di Pesaro e al ritrovato teatro Rossini. Nell'occasione della conferenza in comune però è stato annunciato anche a sorpresa la la presentazione del gruppo era in qualità di partner e sponsor a sostegno della promozione di Pesaro capitale della cultura 2024. mattinata importante per la cultura pesarese mattinata di annunci doppi annunci quello della presentazione della stagione di prosa 2022-2023 per quello che riguarda Pesaro, l'Amat e due teatri il teatro sperimentale dove ci troviamo ora e dove comincerà questa stagione teatrale e il teatro Rossini che torna a far parte delle cartellone dopo i lavori di restauro e entrerà in corso alla stagione. Ma la mattinata è stata anche importante perché è stata l'occasione per annunciare il gruppo era come main partner e prima official sponsor della capitale della cultura 2024. Tanti i temi emersi da questa conferenza stampa in comune facciamo ordine cominciamo dalla stagione di prosa 2022-2023 che ci viene illustrata da Gilberto Santini direttore di Amat che ci spiega quali sono gli otto titoli che accompagneranno 32 serate teatrali. Diciamo che io la chiamo una stagione in transito perché inizierà il teatro sperimentale per poi trasferirsi al teatro Rossini che si sta facendo bello per i nostri appuntamenti che poi da metà 2023 insomma non avranno tregua fino a tutto il 2024, l'anno della capitale della cultura. Una stagione fatta di tante storie al presente piena di nomi e volti noti ma anche proposte nuove proprio per un teatro che è capace nel divertimento, nella riflessione di raccontare davvero il senso del presente. I titoli? I titoli sono otto, vanno da ottobre a maggio. Diamo qualche suggestione, c'è un bellissimo spettacolo protagonista Stefano Accorsi che ricrea con Daniel Finzi Pasca che è un regista molto raffinato, molto intelligente, una sorta di viaggio onirico legato anche al mondo del calcio. La via con un bellissimo spettacolo prodotto dal piccolo teatro di Milano, una commedia con la firma dell'argentino Claudio Tulkashir e poi Vanessa Incontrade in una commedia divertente sin dal titolo. Scusa sono in riunione ti posso richiamare, il messaggio che tutti noi mandiamo più volte al giorno. Tanti appuntamenti appunto fino a questa proposta sicuramente inedita un Cochi Ponzoni del duo Cochi e Renato per la prima volta in uno spettacolo diciamo con un taglio più drammatico, in un ruolo diverso, molto affascinante e chiuderà appunto nel mese di aprile con le ferite del vento questa bella stagione. E per quello che riguarda invece biglietti, abbonamenti, manca ancora qualche mese di spettacoli ma sappiamo che la corsa al biglietto è al posto in teatro è sempre frenetica. Sì, infatti di questo siamo molto felici, dai primi di settembre partirà la campagna abbonamenti, prima il diritto di prelazione per i vecchi abbonati, poi per i nuovi abbonati e poi tutti i biglietti, comunque tutte le informazioni sono nei nostri siti amatmark.net, teatri di Pesaro. E come detto questa presentazione della stagione di Prosa 2022-2023 ha dato il benvenuto anche al gruppo ERA come main partner nonché official sponsor di Pesaro Capitale della Cultura 2024. L'annuncio dato dal sindaco Matteo Ricci in questa occasione in cui si è recato a Pesaro anche il presidente esecutivo del gruppo ERA, Tommaso Tommasi di Vignano. Ascoltiamo dallo stesso sindaco Ricci e da Tommasi di Vignano la soddisfazione e i benefici di questo connubio all'insegna della cultura. Si è molto importante questa fiducia che il gruppo ERA dà subito in un accordo triennale per sostenere la capitale della cultura, del resto è un appuntamento che può cambiare la provincia, può cambiare il nostro territorio, dipende come ce lo giochiamo e abbiamo deciso di iniziare subito perché dobbiamo fare depositare nell'immaginario collettivo il fatto che Pesaro e la provincia siano una delle realtà che più di altre stanno scommettendo sulla bellezza sulla cultura e anche sul binomio natura-cultura che è il binomio con il quale abbiamo vinto ed è importante anche per questo il gruppo ERA perché ogni volta che parliamo di acqua, di energia, di rifiuti ERA è il nostro partner nel nostro territorio. Quindi una bella collaborazione che rafforza ulteriormente il rapporto tra ERA e gli enti locali della nostra provincia e questo sicuramente ci consentirà di giocare meglio e con più forza la partita dalla capitale. L'evento di oggi nasce dalla vittoria e dalla scelta di Pesaro come città della cultura e quindi era un qualche cosa che riguardava la città, nasce dalla città e noi ci siamo affiancati anche se volete in un punto di piedi con un certo sforzo economico ma sicuramente con convinzione. Per quello che riguarda invece le vicende passate, è una storia che vi sale vent'anni fa, siamo entrati abbastanza in punto di piedi dopo aver vinto una gara pubblica che cercava un partner nel settore dei servizi. L'abbiamo vinta e poi piano piano la collaborazione si è accresciuta e direi ha dato buoni risultati sia al mondo pubblico di questo territorio sia anche al mondo industriale perché questo è il nostro mestiere normale. Credo, come accennavo, che si possa anche puntare, come stiamo già facendo peraltro, ad aggregare a questa nostra presenza anche altre realtà del territorio stesso perché questo è un settore di ampio movimento con un difetto, un eccesso di numerosità degli operatori che in qualche caso sono vittime della loro poca dimensione e in un settore come questo che è caratterizzato da una crescente competizione o siano le spalle grosse o si rischia di rimanere a vangolo. Questo l'abbiamo spiegato in tanti modi, cercheremo di farlo concretamente anche nei prossimi anni. E come ogni venerdì, anche domani, l'Arena BCC di Fano assicura risate garantite con un'altra commedia dialettale della rassegna Teatro Sotto le Stelle. Continuano le risate con le commedie dialettali della rassegna Teatro Sotto le Stelle all'Arena BCC di Fano. A far divertire il pubblico di Tre Ponti questa volta sarà la compagnia Il Guitto con El Bar Sotamunjov di Stefano Guidi e Alice Guidi. Appuntamento venerdì 22 luglio alle 21.30. Il nostro è Il Bar Sotamunjov, una commedia che presentiamo quest'anno, che abbiamo presentato nel 2020 ma poi con l'arrivo del Covid siamo stati costretti a bloccare e adesso la riprendiamo qui per Tre Ponti. È una commedia ambientata in un bar, un bar che noi idealmente abbiamo posto sotto il collo di Montegiove, lungo la via Flaminia. È una storia che praticamente è un incrocio di storie. I personaggi, i frequentatori di questo bar, ognuno con le sue vicende personali, ognuno con i suoi problemi, si incontrano, si relazionano e danno vita a delle storie che poi sono storie divertenti e che fanno la trama di questa commedia. Le telecamere di Rossini TV si accenderanno domani venerdì 22 luglio alle 20.30 in occasione di uno speciale appuntamento organizzato da Physioradic Medical Center che ospiterà in un incontro aperto al pubblico, Massimiliano Secchi, fondatore e direttore della No Exclusis World. L'appuntamento si intitola Mente e corpo, il tuo benessere dipende da te, appuntamento in cui si conoscerà l'esperienza e il metodo di successo di Secchi che è nato con una grave malformazione che ha impedito il completo sviluppo dei suoi arti inferiori e superiori. Ma nonostante la sua condizione fisica, Secchi ha vissuto e superato ostacoli ritenuti impossibili raggiungendo successi straordinari. Sarà un evento assolutamente gratuito in cui sarà possibile fare una donazione a sostegno di due associazioni del territorio come Iopra e Timmagini Onlus. E passiamo a Cartoceto dove il Comune organizza parchi d'estate, una rassegna che ogni venerdì si muoverà negli otto parchi di quartiere accendendo le luci su uno spettacolo diverso cominciando da domani per poi concludersi sabato 10 settembre in piazza Giovanni Paolo II con un grande appuntamento di fine estate in compagnia della comica Emanuela Aureli. Si comincia il 22 luglio presso il parco del quartiere Centro in Viagiotto con le bollicine Tribute Band di Vasco Rossi. Ed ora le notizie di sport. Cominciamo dalla Vispesero perché dopo tre anni lontani dal Benelli divisi con le maglie di Carpi e Fermana il 25enne terzino Stefano Rossoni pesa Resedoc torna a vestire la vis che ha indossato maglia che ha indossato per cinque stagioni superando anche le 100 presenze in bianco rosso. Rossoni ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2024. E dalla vis passiamo alla VL che invece oggi ha presentato un nuovo sponsor a sostegno del consorzio Pesero Basket. Sponsor che conosciamo in questo servizio realizzato da Edoardo Orazzi in cui approfondiamo anche alcune tematiche di basket mercato. Il consorzio Pesero Basket che possiede il 100% delle quote della VL da oggi è pronto ad accogliere un nuovo socio. Si tratta di STR Automotive, azienda pesarese situata in strada della Fabreccia che opera nel settore del lusso automobilistico. Una nuova società che entra a far parte del consorzio, la prima sotto la presidenza di Franco Arceci diventando il 27esimo socio che si aggiunge ad un roster di aziende determinate a destinare risorse a supporto della VL. Noi operiamo nel settore dell'automotive, in particolare nella fascia alta del mercato e quindi forniamo i brand un pochino più importanti. I numeri della nostra azienda si traducono velocemente, abbiamo 4 stabilimenti, circa 400 persone impiegate nelle nostre strutture, circa 70 milioni di fatturato. La cosa che ci permette di sostenere il nostro sviluppo, la nostra crescita che stiamo continuando ad alimentare è la volontà di cercare innovazione, di migliorare il prodotto, di migliorare il servizio e di un pochino in maniera presuntuosa, lo premetto ma non vuole essere questo il sentimento, di cercare di anticipare un po' quelli che sono i cambiamenti che il mercato sta presentando. Questo è un momento incredibilmente stimolante, abbiamo la transizione energetica, i nuovi concetti di sostenibilità, un nuovo concetto di welfare per continuare ad avere appeal sul mercato del lavoro con i dipendenti che sono forse il fattore più importante che abbiamo in azienda, le risorse umane e speriamo di poter all'interno del consorzio dare un pochino di quella che è la nostra impronta nella conduzione dell'azienda e quindi di cercare di invogliare anche gli altri consorziati a fare qualche ragionamento non solo sul presente ma anche magari guardando un pochino in avanti. La presentazione del nuovo socio è stata anche l'occasione per fare il punto sul mercato fatto fino ad ora dalla VL tra conferme e nuovi acquisti ma anche per parlare di ambizioni e aspettative per la prossima stagione. Grazie allo sforzo della società, dello sponsor e dei consorziati siamo riusciti ad arrivare al punto di equilibrio e convincere Matteo e Carlos a rimanere con noi e soprattutto a portare un giovane di grandissima prospettiva come Visconti che ha un talento da sviluppare veramente molto molto intrigante e uno dei giocatori più esperti del panorama italiano Valerio Mazzola che come sapete ha vinto tanto con Venezia ed è pronto a portare la sua esperienza le sue caratteristiche tecnico-tattiche al servizio della nostra squadra. Siamo altrettanto soddisfatti dei due stranieri che abbiamo firmato finora. L'ultimo è Mars, un giocatore di sistema, ci piace definirlo così perché può essere pericoloso soprattutto quando attacca il ferro creando in avvicinamento soluzioni per se stesso e per i compagni ma allo stesso tempo è veramente bravo a creare vantaggi che sfruttano i compagni di squadra sul perimetro e in area con il suo penetro e scarica. E poi Ciara Lampopoulos, altro giocatore con una grande scuola, un atleta con talento tattico enorme, un ottimo tiratore, versatile. Il campionato ha delle forze che sono abbastanza chiare. Per il resto ci sarà una guerra enorme, molto livellata, tra squadre che possono entrare nei play-off, nelle finale di campionato ma rischiano anche di lottare per la salvezza. Ecco, noi dovremmo cercare di far parte all'interno di questo gruppo, facciamo parte di sicuro di questo gruppo, cercare di stare al vertice di questo gruppo ma sarà una battaglia enorme raggiungere questo obiettivo. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo come sempre qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata che questa sera giovedì alle 21.20 è dedicata a Capriole, storie di fallimenti e rinascite. Un appuntamento, un documentario con Paolo Cevoli e con l'impegno del comico romagnolo, impegno sociale verso la cooperativa L'imprevisto Capriole, questa sera dunque alle 21.20. Domani venerdì invece la serata di Vox Pop, la voce dei pesaresi, appuntamento con prima edizione alle 19.00 e prima replica alle 22.30, in questa puntata andremo a conoscere i pareri verso le vacanze dei pesaresi in questa estate 2022. E domani invece torna puntuale l'informazione di Buongiorno Rossini, la nostra consueta rassegna stampa che vi tiene compagnia tutte le mattine dal lunedì al sabato con le principali notizie della provincia di Peso Rubino e della regione Marche, come sempre rigorosamente in diretta a partire dalle 7.20. Ed è invece tutto per questo spazio informativo Rossini News, vi ringraziamo per averci seguito, vi lascio con le previsioni del tempo e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.